Ho visto abbastanza morti in vita mia. Giù! È giunta la tua cura. Finbar Murphy. Tra una settimana avrò altro per team. Quante persone in tutto hai ammazzato? Non me ne rendo più conto. Da molto tempo. Sto cercando un amico. Come si chiama? Finbar Murphy ha fatto qualcosa di imperdonabile. Distruggeremo questo posto dimenticato da Dio. Un santo deve prima essere un peccatore, no? Non farei più del male a nessuno in questa città. Ho visto abbastanza morti in vita mia. Giù! È giunta la tua cura. Ra vai hai una seguente Happiler? È giunta la tua? Ma we, noi, 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 noi... Luventyo! Chiesco èestä chiuso per c 임are